I tassi USA salgono, il petrolio vola con le sue quotazioni e a Wall Street è iniziata la stagione delle trimestrali, cosa fare? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Da cosa inizi con la tua prima operazione per questa settimana? Beh diciamo inizio subito col dire che io riprenderò un pochettino le strategie che avevano funzionato bene nella passata stagione quindi cercherò di magari fare dell'operatività sia long che short cercando di andare a puntare sui titoli che ritengo essere più forti e magari andare a mettermi al ribasso su quelle aziende o indici che paiono meno virtuosi quindi diciamo che al netto di questo la prima strategia che metto in atto meglio che mi gioco è una carta long quindi una carta verde e il titolo che ho selezionato è Meta Platforms quindi la vecchia Facebook se vogliamo che appunto è stata rinominata recentemente. Bene cosa c'è da dire su Facebook? Sicuramente il tema è interessantissimo il Nasdaq qui ci sono una serie di cose tecniche da dire poi se mi sto dilungando troppo ti prego pure di fermarmi però il tema è questo il Nasdaq in questo momento lo stanno vendendo Facebook è un componente rilevante all'interno del paniere e su questo non c'è dubbio per la grandezza appunto dell'azienda quindi nel momento in cui ci sono delle vendite viene venduto tutto viene venduto tutto vuol dire che si vende Apple vuol dire che si vende Meta vuol dire che si vendono tutta una serie di altri titoli virtuosi o meno. Ora secondo me Facebook si sta muovendo benissimo o meglio Meta Platform si sta muovendo benissimo all'interno di quello che è il nuovo scenario nuovo mondo legato al metaverso e non solo perché Facebook comunque continua a portare avanti tramite per esempio Instagram tramite le altre piattaforme ricordiamoci anche Whatsapp qui diciamo un'azienda diversificata un'azienda che fa tante cose all'interno appunto di queste dinamiche comunque ci sono dei numeri di bilancio che non sono solidi ma sono solidissimi quindi diciamo i risultati economici che vengono fatti da questa azienda insomma non possono essere tralasciati quindi ovviamente mi gioco una carta alta perché scusate una carta verde perché secondo me in questo momento con gli storni che abbiamo visto e con il rimbalzo che potrebbe arrivare secondo me anche di breve sul mercato azionario dopo i recenti storni secondo me è un'ottima strategia qui possiamo dividere tra strategia diciamo di lungo termine io penso che Facebook tra tre anni per intenderci varrà più di quello che quota oggi e questo diciamo è un discorso di investimento a lungo termine quello che propongo oggi invece una strategia tattica di ingresso su un valore che secondo me è particolarmente interessante quindi sotto la soglia dei 300 dollari per azione quindi vuoi vedere i livelli? Assolutamente sì! Eccoli qua allora Facebook meta platform in questo momento quota circa 300 dollari io ho messo l'ordine leggermente sotto 298 semplicemente per cercare di entrare un attimo meglio e settare i rapporti di rischio rendimento in maniera migliore lo stop loss lo andiamo a posizionare a 285 dollari per quanto riguarda il target price 317 come detto in precedenza ovviamente per me 317 non è un target price di lungo termine è un target price di breve perché comunque i mercati come giustamente detto Stefano in questo momento sembrano essere più ribassisti che rialzisti quindi probabilmente si potrà rientrare su Facebook più avanti a prezzi ancora più bassi però su un'azienda che secondo me è interessante diciamo e allora prima di passare alla seconda strategia un invito anche agli amici a casa che ci seguono non fatevi problemi a mandare le vostre domande a chiedere anche delle analisi ai protagonisti di house of trading oggi abbiamo avuto con noi una campione del mondo cogliete la palla al balzo lo ritroveremo anche nelle prossime settimane Stefano Serafini ma stiamo sentendo anche l'ottimo Enrico Lanati come argomenta le sue operazioni per ogni domanda dubbio o altre cose veramente scrivete e noi siamo dalla vostra parte quindi diamo subito appena vediamo una risposta Enrico la prima strategia a questo punto l'abbiamo vista passiamo subito alla seconda strategia assolutamente in controtendenza rispetto a quanto detto fino adesso quindi ci posizioniamo con una carta rossa quindi una carta ribasso sull'indice Nasdaq spieghiamo questo però è perché mi prende un po' in contropiede Enrico nel senso che sappiamo benissimo Nasdaq si Nasdaq 100 ma l'ottanta per cento dei volumi e della direzionalità è data da quei 4 5 6 titoli peraltro attenzione Microsoft Tesla domani e a stretto giro fra un paio di giorni Apple quindi siamo nel pino della stagione trimestrale a Wall Street con i titoli tecnologici sotto l'occhio degli investitori però ecco mi dai un'operazione long di meta e mi vai short di Nasdaq è una voglia di andare a diciamo fare un edging rispetto alle due strategie o cosa è sia un edging sia la volontà di andare a spazzolare un pochettino i prezzi sulla volatilità nel senso che in questo momento i livelli operativi che ti darò sul Nasdaq saranno leggermente più alti rispetto a quelli che batte il mercato in questo momento questo cosa significa significa che se un rimbalzo dovesse esserci magari appunto per la volatilità che si verrà a creare nei prossimi giorni io voglio posizionarmi in vendita dopo una fase di rialzo quindi di fatto sembra una strategia diametralmente opposta rispetto a quella che abbiamo visto in precedenza la realtà è che comunque non bisogna coprire le posizioni in portafoglio quindi voglio anche vendere l'indice Nasdaq nel momento in cui dovessero esserci dei rialzi quindi ti posso dare i livelli operativi che si riferiscono a diciamo i valori della future scadenza marzo 2022 così almeno diciamo diamo un riferimento anche a chi ci ascolta il livello di ingresso è 14.405 punti quindi appena sopra i 14.400 punti lo stop loss lo andiamo a posizionare a 14.520 punti e il target price leggermente più ampio lo andiamo a posizionare a 14.220 punti questa diciamo è la strategia che mi voglio che voglio spendere sul Nasdaq e allora mentre Stefano Serafini si è concentrato sull'S&P 500 tu sul fronte degli indici di borsa che si possono tradare con i certificati long e short B&P Paribas si è andato di Nasdaq con la seconda strategia a questo punto la terza operazione che ci proponi questa settimana è una strategia rialzista una carta verde o una carta rossa quindi una strategia ribassista? Una carta verde strategia rialzista in questo caso sono in accordo con l'amico Stefano nel senso che si tratta di una carta rialzo su euro dollaro e adesso vi do tutta una serie di motivazioni che mi spingono a posizionarmi diciamo in questa direzione oltre a quelle giustissime che ha riportato Stefano in questa fase io ritengo che gli acquisti sul dollaro ci sono già stati tutto quello che doveva essere scontato è stato scontato il grafico che stai facendo vedere secondo me è interessantissimo c'è euro dollaro parte da oltre 1,20 tempo fa poi c'è anche 1,22 rotti poi c'è una correzione forte che porta i prezzi a scendere di 10 figure questo cosa vuol dire che diciamo gli investitori istituzionali comunque chi muove il mercato è andato a comprare dollari in maniera significativa spostando le 10 figure ci vogliono miliardi per spostare euro dollaro di questo tipo di per questo numero di pips poi se vai a vedere il grafico nell'ultima parte sostanzialmente vede una sorta di movimento laterale verso il rialzo quindi secondo me tutto quello che dovesse scontato tutto il discorso legato ai tassi tutto il discorso legato alla Fed secondo me è già incorporato in maniera rilevante nel prezzo e il fair value secondo me poi ovviamente posso sbagliarmi è un po più in alto rispetto a quello che vediamo adesso al netto di questo io voglio dare una strategia diciamo con stop e target abbastanza stretti proprio perché è nell'animo della diciamo di questa competizione insomma andare a diciamo colpire un target o uno stop loss e far sì che le strategie vengano attivate quindi magari anche entrando qualche punto prima quindi ti do i livelli operativi che ho selezionato per voi il l'ingresso lo facciamo a 1 12 e 65 quindi vicino a quello che batte il mercato sostanzialmente in questo momento lo stop loss lo andiamo a mettere a 60 punti di distacco distanza appunto da questi livelli quindi a 1 12 e 0 5 per quanto riguarda invece il nostro livello di target sopra 1 13 quindi a 1 13 25 ecco diciamo che se l'operatività si può gestire questa operatività visto che l'andrete chi la vorrà fare o chi vorrà diciamo cimentarsi con questo tipo di operatività lo farà per il tramite dei certificati turbo la cosa interessante è poter magari liquidare a parte della posizione su quel livello di target perché il momento in cui la diciamo la direzionalità dovesse essere quella che va nella direzione di 1 13 probabilmente si potrebbero raggiungere anche i livelli intorno a 1 13 e 50 1 13 e 80 magari 1 14 quindi secondo me gestire la posizione molto importante soprattutto nel momento in cui va nella direzione corretta quindi il target è per la sfida secondo me si potrà salire un po di più ascoltami Enrico è forse una strategia un po inusuale ma i turbo certificates nella loro declinazione short e penso proprio nello specifico a quell'euro dollaro che potrebbe impattare sulla marginalità delle aziende piuttosto che anche sui valori delle diverse azioni se il cambio va contro in modo più che proporzionale rispetto a quello che è l'apprezzamento di un'azione l'investitore comunque perde ecco alla vigilia di un appuntamento strategico come quello con la federal reserve si potrebbe valutare anche una copertura proprio con queste tipologie di strumenti sì assolutamente i certificati soprattutto questi a leva sono pensati anche per chi ha la necessità di andare a coprire portafogli e lo puoi fare in mille modi lo puoi fare per andare a coprire un portafoglio per esempio su un indice lo puoi fare per andare a coprire un rischio valutario ecco secondo me le coperture devono durare poco quindi va bene coprire le posizioni ma ricordiamoci che le coperture e questo lo dico diciamo contro l'interesse delle emittenti ma nell'interesse di chi ci ascolta le coperture hanno comunque un costo e però sono molto utili sono interessanti però per un periodo limitato di tempo quindi fatele va bene come tipo di strategia però ricordiamoci che se siamo sempre già ti long e short abbiamo un diciamo comunque dei costi da sostenere e ascoltami a questo punto andiamo in volata ad affrontare la quarta strategia che metti in campo non te li ho fatti prima ci penso complimenti perché proprio grazie alle tue ultime carte messe sul mercato sul finire il 2021 la squadra degli analisti è riuscita a vincere con la metrica secondo livello il fattore delle performance la sfida con i trade ricordiamo che era finita in parità totale il numero delle carte andate a segno nel corso di tutto l'anno ma la quarta strategia che ci proponi su cosa si concentra anche questo caso una carta verde qui ci sono un po di cose da raccontare su questo titolo quindi carta a rialzo su enel una carta rialzo su enel che ti ha visto peraltro puntare sull'ex monopolista in più occasioni nel recente passato eppure è stato uno dei cavalli zoppi di borsa italiana nel 2021 anche qui pensi che il peggio sia le spalle perché si parla di inflazione si parla di energia ma sappiamo come la componente energetica stia appesantendo le aziende l'economia italiana non solo e ad ora abbiamo il sostegno del governo però insomma per alcune società che magari hanno delle degli accordi con i propri clienti sul valore di vendita dell'energia potrebbe essere un boomerang questo incremento dei prezzi sicuramente sì la verità è che c'è sempre più bisogno di energia secondo me enel è un'azienda solida che comunque produce dei risultati interessanti non ha dei multipli fuori dalla grazia diciamo non ha dei multipli folli penso a quelli che possono essere magari quelli di alcune aziende americane legate all'ambito tecnologico quindi diciamo è un'azienda che secondo me all'interno del panorama di borsa italiana può avere il suo perché io l'ho usata ho deciso di mettere una carta rialzo su enel anche per una questione diciamo tecnica ha staccato il dividendo ieri quindi diciamo c'è stata una correzione tecnica proprio legata a questo normalmente i prezzi hanno memoria e quindi potrebbe recuperare tempo in tempi abbastanza rapidi questo questo piccolo gappettino non è un trade diciamo di lunghissimo termine non ho stop e target larghissimi quindi diciamo un'operatività volta a sfruttare quello che potrebbe essere un rimbalzo dopo i recenti le recenti correzioni sugli indici in particolare su forza italiana ok sì assolutamente andiamo a vedere i livelli perché risk reward vicino meno vedendo così il grafico per come ragionerei io mi viene da dire che si è vicini a un plateau che ottiene o non tiene ma soprattutto ha già individuato dei livelli strategici su cui si può andare a operare sì io ovviamente ho cercato di essere quanto più vicino possibile ai prezzi che batte il mercato proprio per attivare le strategie è evidente che lì ci sono diciamo tre minimi e sarebbe interessante andare ad acquistare magari su un prezzo un po più in basso diciamo a livello operativo piace quando c'è una rottura diciamo mettermi diciamo a rialzo se credo nel titolo perché spesso poi viene riassorbita soprattutto se il titolo è un titolo di qualità come in questo caso perché diciamo qui non è che si sta vendendo delle aspettative non è che si sta vendendo chissà che cosa cioè questi producono energia elettrica e la vendono lo fanno da cento anni e probabilmente lo faranno nei prossimi cento anni quindi non c'è niente da inventare su questo modello di business al netto che ci sono tutte le rinnovabili tutto quello che vuoi però un'azienda diciamo storica solida e con un business consolidato ecco quindi diciamo la strategia operativa è molto semplice vado longa a livello di 6,60 metto uno stop loss di 20 centesimi a 6,40 euro il mio target price è di 6,80 euro con una convinzione di tre stelle perché appunto rispetto alle cose che ho proposto in precedenza diciamo è un qualcosa che mi piace di meno in questo momento enrico direi che ha iniziato l'anno con i tuoi cavalli di battaglia meta platforms la vecchia facebook nasdaq enel e anche l'euro dollaro che più volte ti ha visto operarlo e lavorarlo come andiamo a chiudere questo primo tuo intervento ad house of trading edizione 2022 sì no ho deciso di utilizzare le carte sulle quali avevo meglio performata parte loro che su quale era andato bene l'anno scorso e quindi in realtà ho cercato di riproporre quelle che sono le mie idee operative tra l'altro la forte correzione che abbiamo avuto sul nasdaq in queste ultime settimane mi ha dato la possibilità di ritornare a vedere come attrattive alcune aziende tecnologiche come ad esempio quella oggetto della quinta carta la quinta carta come detto una carta rialzista ancora una volta verde e ancora una volta puntiamo su amazon 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 che vedo abbastanza debole anche nella grafico stiamo vedendo ora online mi viene da dire che la soglia dei 3.200 dollari abbandonata abbia portato insomma un appeggioramento di medio termine soprattutto vediamo l'accelerazione e addirittura la violazione di questo importante minimo del marzo di dell'anno scorso non andrei a trascurarlo sì allora qui secondo me le valutazioni grafiche contano fino a un certo punto nel senso che il titolo sta facendo male non ha performato meglio di altri l'anno scorso e diciamo c'è stata una correzione significativa tenete presente che amazon è arrivata a quotare quasi 3.800 dollari oggi ne quota 2.800 quindi ha perso il 25 per cento del valore circa e sto andando a spanne quindi un'azienda che io ritengo essere una delle migliori al mondo per tante ragioni che diciamo mi dà la possibilità di potermi riposizionare in acquisto con uno sconto rispetto a quello che vedevamo tempo fa di circa il 25 per cento secondo me è un'ottima opportunità cioè io su amazon non ho avuto problemi in passato a provare ad acquistarla intorno ai 3.200 dollari eccetera eccetera perché non dovrei farlo a 2008 al netto che io ci credo nel di quello che fanno nel business che portano avanti quindi a livello diciamo di operatività e su questo lasciami spendere due parole BNP Paribas offre tra i suoi prodotti degli strumenti che sono di tipo unlimited che cosa significa che al netto di quello che stiamo dicendo e della gara che stiamo portando diciamo che stiamo facendo insomma con gli altri trader la realtà è che questi prodotti possono essere mantenuti in portafoglio per un periodo di tempo più lungo rispetto a quelli che erano i classici certificati turbo che venivano emessi fino a qualche tempo fa quindi la possibilità di poter mettere in portafoglio di crearsi un portafoglio di certificati anche su amazon per il lungo termine grazie agli unlimited grazie alla possibilità di poter comprare un prodotto in euro grazie alla possibilità di non dover investire necessariamente 3.000 dollari per un singolo titolo secondo me è un'ottima opportunità a prescindere dai livelli operativi che invece sono legati alla gara che diciamo che stiamo facendo e allora a proposito di gara a proposito di sfida direi che è l'ora di mettere in campo i livelli di questa ultima strategia che ci proponi per questa settimana sì allora io penso che la nostra strategia si attiverà perché io avevo inserito il livello di ingresso a 2.802 ho visto che appunto nell'ultima ora insomma di negoziazione questo livello è stato violato quindi immagino venga aperta domani mattina in in open quindi il mio livello di ingresso era 2.802 lo stop loss 2.750 per quanto riguarda appunto la strategia operativa per quanto riguarda il target price invece 2.860 dollari per azione ti è piaciuta questa strategia bene iscriviti al canale BNP Paribas attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17 30 ad house of trading grazie a tutti Grazie a tutti